ciao a tutti ragazzi bentornati su supercrise 2009 lo so avevo detto che oggi nel prossimo video cioè questo qui avremo usato il laboratorio di scienze però ho voluto far mettere prima questo video per dirvi che i miei fratelli finalmente hanno aperto un canale youtube mio fratello daniele si chiama danis spazio 2010 mentre mio fratello alessio si chiama alessio super giochi e daniele che visto ora dei video non lo chiamerò più daniele lo chiamerò danis 2010 vuoi dirci qualcosa allora il canale è stato una il canale è stata una mia è stata un'idea di mio fratello alessio ma anche io desideravo molto e da quando avevo sette anni che volevo che volevo fare un video un canale e quindi dopo due anni perché adesso 10 9 mia madre mi ha premesso di farli di farlo ebbene e farei pure dire qualcosa ad alessio ma ora non può fare perché sta facendo il suo primo video libro star se quindi andate a seguire andate sul canale di daniele danis spazio 2010 e su quella di alessio alessio spazio super spazio giochi e tra un poco sentiremo pure qualcosa che ci dirà alessio bene e ora siamo con alessio alessio ho già parlato del tuo canale e ho detto di iscriversi tu che cosa vuoi dire non ho fatto neanche un video perché sono un po incasinato però io faccio video solo su bro stars e giochi del genere quindi consigliateli dei giochi che si possono scaricare gratuitamente sul tele sul tablet e ora da me da danis da danis e 2010 e da alessio super giochi vi salutiamo nel prossimo video andremo a usare laboratori di scienze ricordatevi di iscrivervi al mio canale e allora e ci vediamo la prossima ciao